Viaggia a Trenitalia quest'inverno ed avrai un favoloso regalo Ora disponibile anche per le classi Mega Magnaccia e Imperator Uno svago umanitario e sociale per i più grandi e per i più piccoli Ma anche per i più medi Collegati con la classe Merdacce, decidi la loro temperatura e... Ghiaccia la Merdaccia E per i titolari della Karate Card, l'esclusiva opzione Vagon Sodomi Un concistoro di sciamani selezionerà le richieste dei vagoni di alto lignaggio Dando priorità ai desideri più efferati Scatennate Sali in treno e gioca con noi Ghiaccia la Merdaccia Un'esclusiva ferrovia dello Stato italiane per freccia zozza